buongiorno e buon sabato benvenuti al nostro mini giornale con notizie flash per le chiese avventiste quinta edizione del bilancio sociale della chiesa avventista italiana il volume racconta con numeri e parole quello che abbiamo fatto come chiesa nel 2017 in termini di attività evangelistiche e sociali il bilancio si può consultare online su news.avventisti.it per averlo informato cartaceo potete chiedere direttamente al vostro pastore i social media sono uno strumento potente come cristiani diciamo di avere un messaggio da condividere quindi è importante che impariamo a usarli bene se affidiamo ai social media dei commenti negativi o distruttivi tenderemo ad allontanare le persone da dio invece di avvicinarle dunque è proprio importante sapere come usare questo strumento la vostra migliore testimonianza sia l'esempio prima pietro 5 8 dice siate sobri vegliate il vostro avversario il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare siate parte della soluzione non del problema grazie per averci seguito e buon sabato a tutti grazie a tutti